Liste d'attesa infinite e aziende sanitarie in difficoltà nel gestire i ritardi e le urgenze dei pazienti. La CISL presenta il programma delle iniziative per ovviare alle problematiche degli appuntamenti nel rispetto dei tempi di cura di ognuno mercoledì mattina nella sede di Andria. Il confronto con gli esponenti sindacali Giuseppe Boccuzzi e Vincenzo Lezzi. L'offerta invece di migliorare è peggiorata e i dati sono sotto gli occhi di tutti. La gente è sempre più disperata in molti casi perché non riesce ad avere una risposta e soprattutto non riesce a curarsi ricorrendo alla sanità privata quando la sanità pubblica non è in grado di offrirgli risposte. È ovvio che le persone più fragili a partire dagli anziani molto spesso attendono rinunciando alla cura. E attendere diventa drammatico quando si tratta di malattie a tempo dipendenti che pregiudicano la guarigione e la stessa aspettativa di vita. I cittadini noi li consigliamo di farsi stampare la prenotazione anche se va ben al di là dei tempi di attesa individuati nell'impegnativa del medico di base e assisteremo loro per dare una segnalazione attraverso dei moduli che abbiamo predisposto per chiedere un intervento immediato affinché quella prestazione possa essere riportata nei tempi previsti dalle lettere indicate dal medico di base. I recenti casi di cronaca nel presidio territoriale di assistenza di Trani hanno riacceso i riflettori sulle liste d'attesa con il sistema parallelo del dottor Francesco Nemore e della sua complice l'infermiera Cosima Battista. C'è poco da commentare nel senso che questo è proprio la prova di quanto il sistema stia favorendo quelle situazioni perché la gente nella disperazione non sapendo come fare, come si trova di fronte a una condizione veramente drammatica della propria salute è disposta a tutto e c'è chi ne approfitta come è accaduto drammaticamente a Trani.